Le costellazioni. Come sarà organizzata la cosa? Costellazioni, sì, guardiamo un disegnino, guardiamo qualche stella carina e se riesco, magari, cioè, qualche mito, qualche nozione interessante. Più che ho premessa, le costellazioni, cosa sono? Adesso sono solo delle parti del cielo. All'inizio erano nate come le dodici costellazioni dello zodiaco, ossia qualcuno ha visto l'eclittica e, in particolare, la Terra la vediamo come l'unica linea dove ci passano i pianeti e ha detto, ok, prendiamo questa circonferenza, la dividiamo in dodici parti uguali. Le stelle che ci passano lì le raccogliamo a modo di disegnini e le chiamiamo con dei nomi e così nascono le costellazioni dello zodiaco. Poi Ptolomeo decide di... Ok, decide di espandere, ovviamente, le costellazioni del nord e quindi da 12 divento 36, poi da 36 divento 38 perché la nave arco viene divisa in tre costellazioni ma sono comunque tutte riferite al cielo settentrionale. Nel 1500, 1600, 1700, quando cominciano ad andare un po' più spesso sotto, sotto l'equatore, nell'emisfero meridionale, le costellazioni avevano bisogno di orientarsi per le costellazioni dato che non esiste una stella polare a sud ma c'è una croce che ti aiuta, la vediamo e però, dato che ero praticamente in epoca illuministica non sono più le costellazioni, per esempio Perseo, l'orsa minore, l'origa, Orione, Andromeda, il Cigno, Ercole quindi tutte le cose legate alla mitologia nord, nord del senso greca, latina, comunque europea ma sono invece cose, per esempio, il volano, il pittore, la rete, lo scultore, l'orlogio, il microscopio, il telescopio, lo scudo, la squadra, il compasso sono cose meccaniche, sono tendenzialmente senza alcun mito dietro, sono oggetti cioè anche la costellazione dell'orologio a pendolo poi si è arrivato a decidere che le costellazioni sono comode per tutto ma i disegnini vengono chiamati asterismi e le costellazioni in realtà diventano soltanto delle aree di cielo infatti una foto un pochettino più triste è questa questo rettangolo è stato creato in modo che la classe costellazione dei due mini che si tengono per mano contenga appunto il disegnino però adesso la costellazione è vista come un'area di cielo perché in questo modo puoi dire perfetto per esempio questa stella qua sfigata che non so il nome si trova nella costellazione dei gemelli che non significa che insieme a questa stella sfigata comporre un disegnino ma che si trova in una parte del cielo dove c'è l'asterismo dei gemelli ok ma chi sono questi gemelli? sono castore polluce in particolare abbiamo polluce a sinistra e castore a destra come sono nati? i miti iniziano tutti così Zeus vuole trombare Zeus in particolare voleva andare a letto con la regina Leda la regina di Sparta la madre di Elena di Sparta anzi Elena di Troia quella che piace scoppiare la guerra ma per andarci a letto decide di trasformarsi in un cigno in questo modo non so per quale motivo la regina Leda fa sesso per il cigno e rimane incinta e secondo i greci quando accadevano queste cose qua quando un dio si univa a un essere umano i parti erano gemellari se non fosse che la sera stessa anche il re di Sparta va letto con sua moglie e quindi nascono quattro figli due coppie di gemelli e i figli considerati simili ai figli di Zeus sono Polluce e Elena di Troia che infatti è bellissima e invece Polluce era un pugile imbattibile perché un potere eccetera mentre invece tra i figli umani figli del re c'è Castole che nasce e cresce diventa una riga niente di strano i due a proposito i miti ce ne sono tanti ne racconto uno ma non è che dovete ascoltarmi cioè sono infiniti prendete la storia che più vi piace ok i due nascono e crescono diventano amici amici profondi inseparabili e decidono di partire insieme con gli Argonauti di Giosone quindi prendono una sua nave Argo a lei cercare il bello d'oro secondo la versione che vi sto raccontando io a un certo punto vanno sull'isola di Amico Amico si chiama cos'ha? era il figlio uno dei figli semidei di Posidone che decide di non lasciarli andare se qualcuno non l'avesse sfidato e poi girato a box dicendo ah ah tanto nessuno ha coraggio vi ammazzo a tutti siete femminati siete delle checche il semidio Polluce che è un pugile serio fa ah sì diecce e Amico ci va e Polluce gli sfonda il cranio gli dà un colpo in testa gli sfonda il cranio e muore così i nostri Argonauti sono liberi di andare solo che il padre Posidone si arrabbia questa cosa qua ha ucciso un figlio e quindi in una delle versioni del mito fa scatrare una tempesta pazzesca sulla nave Argo nella quale muore Castore che invece era un figlio umano normale non era semidio e poi c'è appunto c'è solo tante altre storie ce n'è una in cui i due fratelli si prendono a pugni per due donne oppure in cui incontrano altre coppie gemelli con cui semenano vabbè finisco sempre con Castore morto e poi luce che ci rimane male per suo fratello e altro che era un semidio prega il padre Zeus che non guarda sono disposto a dargli la mia vita immortale a patto che tu lo riporti qua nel mondo divino ma Zeus fa eh no ho perso un figlio adesso cambio cambio morte di figlio facciamo cosa voi siete sempre insieme però state un giorno nella terra dei vivi e un giorno nella terra dei morti nell'Ade e questa era la parte di mitologia e sulla parte delle stelle piccola premessa come si chiamano le stelle della costellazione tendenzialmente hanno dei nomi dell'alfabeto e è una cosa questa fa disegni su Instagram grande vabbè hanno nomi dell'alfabeto quindi in latino cioè alfa beta gamma eccetera 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 e la dichiarazione è data da questo per esempio vabbè casi eccezionali però sono per esempio Proxima Centauri che è una delle due stelle estremamente binario di alfa centauri quindi la costellazione del centauro si traduce così centauro ma va bene alfa perché è la più luminosa sono messe in ordine di luminosità se poi in realtà andate a vedere sono in ordine di luminosità male perché magari quando gli hanno fatto gli antichi c'era la nuvoletta e quindi hanno dato l'ordine sbagliato quando poi tu calcoli la ma è tutto apparente non sono in ordine alfabetico manco per il cazzo allora Castore non è una stella intanto Castore è un sistema spesso le stelle nei galassie si raggruppano a sistemi e intanto la vediamo come una stella perché è a 51 anni luce da noi e la vediamo come la 23esima stella più brillante del cielo del nord poi nel 1904 hanno capito che era un sistema binario quindi hanno chiamato Castore AA e Castore AB però poi hanno visto che Castore AA e Castore AB sono dei sistemi e quindi per adesso siamo a uno sistema quadruplo poi si è scoperto che esiste anche Castore C che orbita intorno che è un sistema binario quindi sono sei stelle e vi faccio vedere come sono messe sono messe cosa? abbiamo una prima grande orbita in cui abbiamo Castore CA qui e Castore CB ok quindi Castore C è un sistema binario adatto a loro due che orbitano intorno a un sistema binario più massiccio quindi che si muove di meno che è Castore BA BA e Castore BB che a loro volta sono stati intorno a un sistema binario due stelle che sono AA e AB avete capito AA AB ok pazzesco è un sistema esabinario potrebbe chiamarsi e è una delle cose assolutamente interessanti della costellazione Polluce invece è più luminosa anche se si trova cioè anche dato che si trova a meno distanza perché sono 33 anni di luce da noi è la diciassettesima stella più brillante del cielo e il suo raggio è nove volte quello del sole è una gigante arancione fra l'altro ha anche un esopianeta perché ha un gigante gassoso tipo un gioviano freddo un gioviano caldo che ci orbita intorno ok queste sono alcune cose che erano interessanti alla prossima